ciao a tutti io sono il dylan dogofilo oggi ho una voce da paperino oppure da topolino perché sono nel bel mezzo di un raffreddore potentissimo non fateci caso recensione dell'album numero 337 di dylan dog di che cosa parla a grandi linee la storia dylan viene catapultato nello spazio spazio profondo per l'appunto viene incaricato di recuperare una nave i precedenti membri dell'equipaggio che sono che hanno già tentato questa missione muoiono tutti a dylan spetta il compito di scoprire il perché indagatore dell'incubo del futuro deve appunto capire perché muoiono tutti perché sono tutti morti dylan andrà su quella nave insieme a un equipaggio di altre 4 o 5 persone moriranno tutti tranne lui si scopre che ci sono dei mutanti pericolosissimi ad aspettarlo per questo appunto è una missione ad alto rischio ma un attimo mi sembra mi sa di sì vediamo un po mi sembra di ricordare qualcosa o dead space bellissimo videogioco del 2008 che narra le avventure di un del protagonista isaac newton che viene incaricato di andare su un'astronave per recuperarla nel corso della missione incontrerà dei mutanti che gli daranno del filo da torcere e l'equipaggio morirà moriranno uno dopo l'altro i membri dell'equipaggio isaac sarà l'unico sopravvissuto ecco un po cosa mi ricordavo e guardate un po qui questa vignetta dove ci sono questi corpi senza vita fluttuanti nella gravità zero o vediamo un po li troviamo anche qui quindi una storia di un ispiratissimo roberto recchioni che palesemente copia un famosissimo videogioco questo perché secondo me strettamente dal punto di vista commerciale non c'è altra spiegazione in bonelli cosa sta succedendo non riescono più a vendere dylan dog e allora dicono cavolo com'è che facciamo a incentivare i giovani a leggere dylan dog chi non lo conosce come fa a conoscerlo come come potrebbe iniziare ad essere un accanito lettore semplice prendiamo i videogiochi come spunto perché come sapete i giovani adorano i videogiochi quindi se noi facciamo un dylan dog uguale ad un videogioco il successo è sicurato beh questo non per me fan della serie fin da tanti anni troppi e fan soprattutto dei primissimi albi di dylan dog mossa commerciale che potrebbe funzionare come potrebbe non funzionare un albo secondo me inutile che non c'entra assolutamente niente con il personaggio di dylan dog è come se io avessi una fabbrica di automobili costruisco automobili e un giorno dico ma dai facciamo una variazione sul tema costruiamo un aeroplano e questo è quello che ha cercato di fare bonelli prendere dylan dog e trasformarlo in qualcos'altro se potessi riportarlo in edicola lo farei subito però non penso che il mio edicolante una volta che l'ho letto mi dà indietro i soldi non posso mi tocca tenerlo se riesco a venderlo mi tolgo un peso dalla coscienza il numero 338 invece del 29 ottobre che uscirà secondo me questo doveva essere il numero 337 questo è una svolta nel mondo di dylan dog rimaniamo sempre con lui quindi nella realtà a cui siamo abituati con bloc che va in pensione non un dylan dog che va nello spazio che poi non è lui non c'entra niente appunto è la la palese copia di dead space un famosissimo videogioco horror quindi un albo che non ha alcun senso e poi qualcuno perché io non l'ho capito qualcuno mi spiega questo so che è un chiaro riferimento agli uomini in bombetta che abbiamo trovato negli albi nei primissimi albi di dylan dog ma non capisco il nesso dylan dog questa è una citazione quindi a uno dei primissimi albi di dylan dog ma cosa c'entra con questa storia ambientata nello spazio io non capisco questa illustrazione a nella prima pagina cosa c'entra con tutto il resto se qualcuno me lo spiega mi fa un favore qui sotto nei commenti oppure via mail come volete roberto ricchioni quindi secondo me ha fatto uno sbaglio colossale così come tiziano sclavi che glielo ha permesso qui qui leggiamo delle delle note di tiziano sclavi che ha permesso tutto questo aborto il tutto contornato dai disegni di mari che sono osceni a dir poco come sapete dal mio punto di vista luigi piccato e il signor mari sono i peggiori disegnatori di dylan dog se volevano rilanciare questo personaggio perché lo hanno fatto con questi disegni osceni cioè non mi piacciono cosa devo fare non sono l'unico a cui non piacciono dylan una faccia stranissima guzza bruttissimo proprio disegni orribili anch'io che non ho mai disegnato scommetto che disegno meglio che affronto eh sì è un grandissimo affronto detto questo storia insignificante speriamo nel dylan dog 338 questa sicuramente sarà una rivoluzione del mondo degli indagatori dell'incubo questo 337 facciamo finta che non sia mai uscito in edicola spero vivamente di poterlo vendere a qualche fiera del fumetto giuro piuttosto lo vendo anche a 50 centesimi ma me ne devo disfare ok fine della recensione se il video ti è piaciuto iscriviti al canale fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima recensione dedicata al mondo dell'indagatore dell'incubo un saluto anche da dead space